salve a tutti ragazzi benvenuti in questo video oggi ragazzi è arrivato il giorno della prova di lui l'SG 108 pro la versione evoluta dell'SG 108 dove finalmente è stato aggiunto un gimbal meccanico per andare a migliorare quella parte che veramente era inutilizzabile cioè la parte video dell'SG 108 però purtroppo come ho detto nel video precedente perché comunque questo è la seconda parte del video che ho già fatto qualche giorno fa dove ho spiegato cosa è migliorato cosa è cambiato rispetto all'SG 108 qua abbiamo il problema che il drone non pesa più 249 grammi ma siamo arrivati a 273 grammi però con un comparto video sicuramente migliorato rispetto a quello precedente perché comunque abbiamo come vi ho detto nel video precedente il gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi e uno slot per la micro sd quindi tutto quello che viene registrato e viene registrato sia sullo smartphone che però sulla micro sd e sulla micro sd abbiamo una risoluzione da 2,7k mentre nello smartphone abbiamo ovviamente una risoluzione molto più bassa poi il radiocomando come vi ho detto nel video precedente è identico alla versione precedente non è cambiato assolutamente niente quindi ragazzi finalmente è arrivato il momento di provarlo e di vedere se la qualità video di questo drone è migliorata rispetto all'SG 108 che era proprio una qualità video scarsissima per un discorso di stabilizzazione inesistente poi dal punto di vista puramente foto e anche le sg 108 secondo me si comportava benissimo e anche questo sg 108 pro dovrebbe essere una discreta macchina fotografica quindi ragazzi direi di non perdere il suo tempo ed eccogliamo in questo test con l'SG 108 pro ok ragazzi allora per prima cosa il controllo è acceso vado ad accendere il drone perfetto e adesso dobbiamo andare a collegare la rete wifi allo smartphone quindi la rete wifi creata dal drone andrà collegata con lo smartphone andiamo a selezionare impostazioni ed ecco che appare m8 gps 5g cioè la rete creata dal drone a questo punto aspettiamo che si connette dopodiché andiamo ad aprire l'applicazione dedicata che in questo caso per questo drone per l'SG 108 pro e h fan pro prepara to fly qua c'è la calibrazione del drone allora il drone va calibrato per quanto riguarda l'accelerometro va messo sulla superficie piana quindi fatelo a casa fate calibration lampeggeranno un po i led per qualche secondo dopo che la calabrazione è fatta quindi fate la casa poi non la fate più mentre quella della bussola fatela sul posto in cui andate a volare che almeno c'è sicuramente meno interferenze che dentro a casa quindi vedete che io ho fatto next quindi ho saltato quello che era la calibrazione dell'accelerometro e vado a fare la calibrazione della bussola seguite quello che vi dice l'applicazione perfetto adesso lo andiamo a girare così perfetto calibrazione avvenuta con successo quindi siamo pronti a volare vedete che l'applicazione adesso è già connessa si vede che la telecamera del drone sta inquadrando adesso direi ragazzi che possiamo decollare se andiamo a far partire la registrazione video cliccando sull'applicazione o con il tasto qua del controllo e tenendolo premuto un po vedete che inizia a registrare il video a questo punto possiamo decollare andiamo a tirare gli stick verso l'esterno avviamo i motori e decolliamo perfetto adesso mi giro di qua così c'è un po più di ombra non sono contro sole allora guardate il drone il drone ha un hovering incredibile per essere un drone low cost molto low cost perché parliamo di 98 euro guardate che hovering incredibile che ha e questo lo aveva anche lsg 108 a versione non pro ed è una cosa veramente pazzesca per un drone comunque di piccole dimensioni ed un prezzo così basso perché comunque ricordatevi che lui a sotto ha anche l'optical flow però lsg 907 per esempio non mi aveva entusiasmato come mi entusiasma questo questo è più simile allsg 908 lsg 906 proviamo a vedere il comportamento in volo adesso ve lo faccio vedere questo è il drone come vola ed è fantastico e l'ho già detto sembra di pilotare il mini 1 per quanto è preciso per quanto è morbido per come vola bene per come è davvero un drone incredibile questa è la velocità quella lenta poi se andiamo cliccare il tasto qua sopra del radiocomando cambiamo la velocità adesso abbiamo una velocità un po più performante non cambia tantissimo però un pochino cambia adesso però le cose che volevo fare è sicuramente vedere il comparto video che è la cosa che interessa di più vediamo ricordatevi sempre ragazzi che è un drone love coast quindi va pilotato morbido perché comunque il gimbal non ammortizza come un drone ovviamente di fascia alta quindi cercate sempre di pilotare morbido e dovreste avere comunque dei risultati dirai niente male o perlomeno accettabili per 98 euro di drone valutate sempre che costa 98 euro adesso giro cerco di girare delicatamente per avere più fluidità anche nell'ammortizzamento della videocamera cioè guardate quanto è bello e come vola bene fantastico è fantastico adesso volevo scattare una foto mi metto in posizione mi fermo e vado a scattare una foto adesso mi giro ne scatto una da questa parte almeno avete proprio anche l'idea perché secondo me come forse sono davvero buona anche lsg 108 per il comparto foto non era niente male ovviamente il suo handicap era la parte video è ancora una foto di qua anzi ne facciamo ancora una girata da questa parte e poi ricominciamo a fare il video vediamo vediamo come si comporta poi mi scrivete voi nei commenti come avete visto la qualità video di un drone da 98 euro è calcolate sempre appunto il discorso dei 98 euro allora siamo a una distanza di 170 metri ricordatevi che range ragazzi per quanto riguarda la qualità ricordatevi ragazzi che per quanto riguarda il ritorno video il range sarà intorno ai 250 300 400 metri al massimo se proprio siete in una zona senza interferenza scordate gli 800 metri dichiarati e mentre come controllo del radiocomando sicuramente potreste arrivare anche a 800 metri quello sì perché comunque siamo sulla frequenza di 2,4 mentre siamo sulla frequenza di 5,8 per quanto riguarda il wifi del ritorno video adesso volevo scendere da questa parte e poi magari fare un return to home mi allontano ancora un po e poi facciamo un return to home e vediamo il comportamento anche appunto a livello di sicurezza del drone per quanto riguarda il return to home mi allontano da quella parte di là ok che distanza siamo c'è un sole incredibile non vedo una mazza allora siamo a 230 metri 250 arriviamo a 300 metri vedete che già adesso il ritorno video inizia un po a essere un po in ritardo ok direi che siamo a 350 metri e andiamo ad attivare il return to home return to home attivato e vediamo come si comporta il drone che comunque è vero che è low coste ma il discorso sicurezza ci deve essere comunque la cosa che deve ritornare in questa area poi che atterri sulla sua valigetta vabbè quello forse è un po impossibile anche perché non avendo il landing oggi me lo sono dimenticato di usare la sua valigetta per atterrare ma vediamo come si comporta per un discorso di sicurezza quindi di sicurezza parliamo che il drone atterri perlomeno in questa area e infatti è qua sopra è ritornato senza nessunissimo problema adesso lo facciamo atterrare vediamo dove atterra mi sposto mi giro di qua vediamo sopra di me si arriverà più o meno qua secondo me secondo me arriverà più o meno in questa zona vediamo ok sta arrivando direi che non è niente male secondo me se continua così non è assolutamente niente niente male vediamolo ok sta arrivando eccolo lì lo vedete vado a interromperlo perfetto ho interrotto guardate è partito da lì ed è qui quindi ha un errore di partiamo da qua metro e mezzo circa di un metro e mezzo direi che comunque tanta roba per questo drone super low cost è quindi abbiamo un metro e mezzo di errore nel punto uomo da 350 metri di distanza adesso facciamo partire ancora la registrazione video proviamo a fare qualche ripresa un po più decisa wow è bellissimo da pilotare ragazzi è bellissimo anche se non avete mai pilotato un drone con questo non avete proprio la minima difficoltà è davvero davvero stupendo in tutto bellissimo ok ragazzi direi che possiamo ritornare adesso anche perché penso che ormai di batterie ce ne siano ben poche non riesco a vedere una mazza nel display perché abbiamo veramente un sole incredibile e non mi permette di vedere assolutamente niente e non mi permette di vedere assolutamente niente adesso riatteriamo perfetto direi tutto perfetto quindi adesso ragazzi spengo tutto e tiriamo le conclusioni di questo sg 108 pro ok ragazzi il testo è finito lsg 108 si è comportato benissimo in tutto per quanto riguarda il volo come ho già detto tanta roba vola benissimo rettuno tuomo avete visto sbagliato di un metro e mezzo partendo da qua quindi super sicuro da questo punto di vista sono arrivato 350 metri però ritorno video già iniziava avere dei problemi quindi ve l'ho detto al massimo arrivate a 400 metri non di più per il ritorno video mentre il controller arrivate anche a un 700 800 metri poi parliamo di quello per cui siamo venuti realmente a fare questo test il comparto video il comparto video sicuramente è migliorato rispetto a quello dellsg 108 che proprio è una cosa inguardabile qua sicuramente un miglioramento c'è stato dato dal gimbal meccanico anche se ovviamente parliamo di un gimbal molto molto economico però sicuramente un miglioramento c'è stato però va sempre valutato che questo costa 98 euro quindi non è che potete pretendere un dj mini o un film x8 mini no qua ragazzi parliamo di 98 euro quindi va preso per quello che è però sicuramente il miglioramento c'è stato perché se vi ricordate il video del 108 che avevo portato la recensione qua sul canale il drone bello come questo volava bene come questo ma i video cioè neanche un secondo di video si poteva prendere da quei video che si facevano e le foto invece erano buone anche qua secondo me le foto buone e video sicuramente molto migliorate rispetto alla versione precedente il tempo di volo secondo me arriva intorno ai 17 20 minuti al massimo una cosa del genere comunque secondo me a 20 minuti ci si arriva poi dipende come lo si utilizza e cosa si deve fare se c'è vento se non c'è vento tutte queste cose e poi cosa dire ragazzi è un drone che per chi vuole iniziare sicuramente merita però purtroppo pesa più di 249 grammi quindi a livello di legge se si vuole utilizzare in maniera regolare dovreste avere il patentino online per utilizzarlo poi uno fa come vuole dipende dove lo utilizza cioè ragazzi qua parliamo di un drone che comunque rimane molto inoffensivo per il suo peso però c'è questi 23 grammi che vanno oltre a quelli permessi dalla legge per essere un drone sotto i 250 grammi e questo è davvero un peccato perché sicuramente con 249 grammi e queste caratteristiche anche video e foto sarebbe stato un drone per il suo prezzo davvero incredibile quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato la mia recensione e la mia prova è il test di volo dell'SG108 però vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità curiosi tante prime voli in FPV spoiler di quello che arriva sul canale infatti anche di questo drone è arrivato un sacco di spoiler tante cose arrivano lì sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3g offerte per sostenere questo canale dove magari metto anche il coupon sconto anche di lui quindi tanti sconti e tante promozioni arrivano sul mio canale 3g offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o una novità ciao